Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo la pagina sportiva con il calcio e con la lucchese che ormai è proiettata alla trasferta di sabato pomeriggio ore 17.30 sul campo del Rimini. Stavolta cominciamo dal pallone racconta. Dopo innumerevoli sfide consumate nel secolo scorso, l'ultima volta della lucchese a Rimini risale al 31 ottobre 2015. Parliamo di sette anni fa e spiccioli. I biancorossi romagnoli si imposero 2-0 superando quella lucchese guidata da Giovanni Lopez. Fu una doppietta di ragazzo al quarto della ripresa, in pieno recupero al 92esimo, a decidere le sorti del match. A confortare in qualche modo i rossoneri ci sarebbe però la vittoria per 2-1 nel match di andata giocato al Porta Elisa lo scorso 24 settembre. Gran primo tempo degli uomini di Maraia, che andarono a segno con Bianchimano e Mastalli. Il gol su rigore dell'ex Santini al 92esimo non servì a cambiare la fisionomia di un match già indirizzato nella prima frazione di gioco. Intanto prosegue la preparazione della truppa rossonera, che dopo aver partecipato mercoledì pomeriggio ai funerali di Enrico Scaletta, è ormai quasi alla rifinitura prevista venerdì mattina prima della partenza nel pomeriggio per la riviera romagnola. Certo è che la sconfitta contro il Fiorenzuola ha smorzato gli entusiasmi e forse ridimensionato le ambizioni, anche se dobbiamo ribadire che questo è un campionato alquanto strano, dove ogni partita può smentire quella precedente e viceversa. Anche a Rimini si tratterà di un confronto diretto per il play-off. Per quanto riguarda la formazione che calerà il cospetto dei biancorossi di Marco Gaburro, crediamo di intuire che Maraia proporà diverse novità. Solo il pacchetto arretrato dove Tiritielli è andato in diffida dovrebbe essere confermato, mentre sia in mediana che in attacco qualcosa sicuramente cambierà. È maturata una sconfitta per il Real Forte Quercetta nel turno infrasettimanale di Serie D. Il servizio è di Roy Lepore. Seconda sconfitta consecutiva per il Real Forte Quercetta, dopo il 2-1 subito a Scandicci, è arrivata quella in casa con il Riccione per 1-0 mercoledì pomeriggio nel turno infrasettimanale dei gironi a 20 squadre. Riccione che ha segnato nella fase iniziale della partita con Mocolu al 19esimo. E nonostante che padroni di casa abbiano cercato di recuperare pressando, gli ospiti hanno difeso il prezioso gol che ha portato alla fine tre punti importanti. In panchina a sostituire Simone Venturi a riposo dopo il brutto episodio di Scandicci. Per lui, sette giorni di prognosi, è andato Alessandro Marsili, allenatore in seconda, che ha evidenziato nel post partita il momento particolare della squadra in cui non gira nulla per il verso giusto, nonostante l'impegno dei giocatori non sia mancato. Adesso però il Real Forte Quercetta è atteso domenica alla trasferta di Correggio, ospite di una squadra che ha necessità di punti, visto che si trova in zona pre-out. Ma per i bianco-nerazzurri c'è necessità di muovere la classifica recuperando qualcuno degli assenti. Bartolini è espulso a Scandicci nel finale concitato, mancherà comunque anche domenica per squalifica. Nonostante sia uscita il primo turno degli Australian Open, eliminata dalla forte russa Ludmilla Samsonova, Jasmin Paolini guadagna una posizione nella classifica mondiale. La 27enne tennista lucchese è infatti adesso numero 65 del ranking della WTA. Scatta domenica prossima alle 15 al Paratagliate di Lucca la prima giornata del campionato nazionale di Baskin, fase territoriale toscana. Di fronte, subito in un derby, i Warriors Lucca e Panda Alto Pascio. Anche quest'anno sono sei le formazioni che parteciperanno alla fase regionale. Le vediamo con questa grafica, Warriors Lucca, Panda Alto Pascio, Costone Siena, Galaxy, Porcari e poi due squadre di Pistoia, Pistoia Blu e Pistoia Giallo. Parliamo di pugilato perché in queste ore Sascha Mencaroni è volato con il maestro Giulio Monselesan a Catania. Si gioca una maglia azzurra per gli europei. Continuano gli impegni di portata nazionale per gli atleti della pugilistica lucchese dopo la convocazione di Miria Rossetti-Busa, ritiro della nazionale femminile a modi Caragusa e la volta dello junior 46 kg Sascha Mencaroni che proprio in queste ore è volato a Catania col maestro Giulio Monselesan per partecipare al prestigioso torneo d'invito Round Robin. La competizione, che si svolgerà tra venerdì e lunedì, porterà il giovane lucchese ad incrociare i guantoni con gli altri tre pugili più promettenti della categoria i quali avranno modo di affrontarsi per la competizione. tra di loro nel corso del fine settimana in un girone all'italiana. In pali per il più meritevole dei quattro junior 15-16 anni c'è un posto nella nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali tra cui i campionati europei che si terranno a luglio. Mencaroni al secondo anno della categoria junior, dopo aver conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani dello scorso anno, si troverà quindi ad affrontare tre temibili rivali desiderosi di strappargli il posto in azzurro rappresentata lo scorso settembre ai campionati europei di Monte Silvano. Tra i suoi avversari il laziale Massimiliano Aramini, già campione italiano schoolboy 2022, l'emiliano Tommaso Orlando, anche gli campione italiano schoolboy nell'artegoria dei 44 kg, ed il siciliano Kevin Sciuto, medaglia d'argento ai campionati italiani schoolboy. Sarà dunque una competizione molto agguerrita in cui il giovane pugile lucchese dovrà dimostrare ancora una volta di meritare il prestigio a livello nazionale conquistato con anni di prestazioni di alto livello tecnico. Pinteremo informati nei prossimi giorni su quello che farà Sasha. Due vittorie su due per le serie nazionali, cinque vittorie su otto nelle serie regionali. È questo il bilancio più che positivo per le squadre del tennis tavolo Lucca nella nona giornata dei campionati a squadra e la seconda del girone di ritorno. Dunque in cassaforte, punti importanti e tante belle prestazioni. Adesso ci saranno due settimane di stop ai campionati e gli atleti saranno invece impegnati nei tornei di categoria. L'appuntamento con i campionati è per l'11 e il 12 febbraio quando appunto si tornerà a giocare. Chiudiamo con una chicca. Andrea Lanfri dunque, come abbiamo ricordato in questi giorni, ha scalato la Concagua in Argentina, la vetta più alta del Sud America. Dunque è riuscito a scalare la quarta delle sette vette che si è preposto di scalare, le sette vette più alte di tutti i continenti sulla Terra. Abbiamo questa chicca, questa anteprima con le immagini che sono arrivate, che da poco Andrea ci ha mandato dall'Argentina. Sentiamolo, sono pochi secondi, al suo arrivo in vetta alla Concagua. Eccoci qua, quarta vetta delle Seven Summit. La Concagua fatta ora alla prossima. Alla prossima avventura. Fatica. C'era un po' di vento, ma era comprensibile. Ricordiamo che Andrea Lanfri sarà nostro graditissimo ospite il 5 febbraio in Domenica Replay. È tutto per la pagina sportiva del TG9. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa, il TG prosegue con la terza ed ultima parte. Grazie. 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 Grazie.